Abbiamo un numero esponenziale 4 alla 2023. Determina quanto vale la sua metà. Ciao sono Mirko e questo è come lo risolvo. Ricorda di seguire il coneglio binario, chissà dove porterà. Il 2 a denominatore lo posso considerare come la radice quadrata di 4, che in forma esponenziale diventa 4 alla un mezzo, che posso portare al numeratore cambiando il segno all'esponente. Stessa base, esponenti diversi. È un prodotto proprietà delle potenze. Posso sommare gli esponenti. 4 alla 2023, meno un mezzo. 2023 per 2, 4046, meno 1, 4045, fratto 2. L'esponente lo posso scrivere come 4045 per un mezzo. Proprietà delle potenze. Il prodotto di esponenti diventa 4 alla un mezzo, tutto elevato alla 4045. E 4 alla un mezzo è 2. Quindi il risultato è 2 alla 4045. Se il video ti è piaciuto ricorda di iscriverti al canale e di subito sui social. Ciao